Stefano Candiani, lei è preoccupato per la provincia di Parese, sembra che il governo sia intenzionato a chiudere diversi uffici postali. È una situazione che non è stata per niente chiarita in commissione, in audizione con l'amministratore delegato di Poste. Abbiamo chiesto spiegazioni e soprattutto chiarimenti riguardo a questa volontà di Poste di andare, come dicono loro, a razionalizzare, perché di razionare in questo piano c'è veramente poco. Ci hanno consegnato questo plico che abbiamo analizzato e che abbiamo riportato in commissione andandone a chiedere giustificazioni e quello che ne deriva in sintesi estrema è molto semplice. Poste italiane ha bisogno di ridurre i costi e vuole andare sul mercato per essere appetibile con dei servizi che non sono più quelli postali. Quindi puntare essenzialmente sulle banche per loro, sull'attività bancaria, diventa una scelta. Noi non siamo d'accordo perché Poste, ricordiamo, c'era un servizio di Stato, ma soprattutto è un servizio che è stato pagato e costruito con i soldi dei cittadini. Su questo marcheremo stretto il Governo, ma diciamo anche agli amministratori dovete alzare la voce, perché il Governo in questo caso sta prestando il fianco e sta dando indicazioni apposte di chiudere in questa direzione. Si parte dai piccoli comuni e si arriva poi anche ai più grossi centri, ma non c'è razionalità. Faccio l'esempio, vengono chiusi gli uffici postali in realtà periferiche, in piccoli comuni piuttosto che in alcune frazioni dei comuni più grossi, senza badare che i costi, soprattutto in termini di risparmio, possono esserci invece più nelle grandi città. Se vogliamo parlare di risparmi di costi, ma noi vogliamo parlare di servizi. Qual è la qualità del servizio oggi? Se uno va in un ufficio postale ci trova un mercato arabo, ci trova un succo, ci trova di tutto. Tutte le schifezze possibili e immaginabili sono in vendita, tranne il servizio che la gente desidererebbe avere, la consegna della posta e soprattutto l'attività postale vera e propria.